Nessun tumore, niente, il cervello è sano. Quindi quella poveretta si è fatta operare solo perché tu non venissi tartassato dalla... Guarda che... Ci può essere comunque un problema neurologico. Sì, non è lei che finge la risonanza. Senza giacca con questo tempo, ma che imprudenza. Li ha fatti lei. Magari ci danno un indizio. Li ha firmati? Il nome non guasterebbe. Gli avvenimenti, i diversi posti, si rifanno tutti alla sua esperienza. Filadelfia. Guardate l'orizzonte. Molto suggestivo. Il Chrysler Building. È una nuvola. E il Chrysler Building è a New York? Io dico Filadelfia. E il cactus quello è... Beh, è una macchina rotta. È un incidente. Un cactus a Filadelfia? E l'acqua... Beh, l'acqua è sempre ottobre, no? Naturalmente. E la pagina è la pagina 22, quindi il 2 ottobre del 2002. La paziente ha avuto un incidente d'auto due anni fa, nel mese di ottobre. Santo cielo! E come se l'ha cavata? Si è fratturato un braccio, direi. E gliel'hanno sistemato con questo qui. Un chiodo. È un documento. Con tanto di numeri di serie. È legato al nome del paziente. Per questo ci tenevi alla risonanza? Per poterle togliere quello lì dal braccio? Non ti sarà illuso che l'abbia fatto per salvarti il sedere. Prova a dare un'occhiata alla... Per un'occhiata all' 정o stregge. China si è perfil��... Per un'occhiata... Elei... Per un'occhiata al soleil di file, vuoi... Da...